Non l'abbiate già fatto. Visto che siamo in cucina, vogliamo sfornare una vignetta. Buongiorno a Dino Manetta, mi è venuta anche la rima. Buongiorno, la vignetta è sfornata, la vignetta parla proprio di questa proposta delle cucine. C'è un signore dentro casa con una pentola a mano che dice, ma è questa che sarebbe? L'operario che si è arrivati dice, la dice con le cucine. A proposito, mi vedi, sembra quasi una vignetta che anticipa la storia di Gina e di Andrea. Torno al centro studio dove trovo il professore Ugo Ruffolo, ma voglio sapere, Dino, se ho visto che disegnavi, sei una vignetta per noi, magari su che cosa ce l'hai? Sul tema dell'evasione è un classico, insomma. Io ho immaginato uno showroom, diciamo così. C'è un signore che sfila in passare la vestigia del barbone e la voce fuori di campo che declama il modello 740. Allora.